Ok, allora ragazzi, è notte fonda e quindi cercherò di fare il meglio possibile perché non mi aspettavo assolutamente di dovermi mettere qua a studiare, prendere appunti, cercare di capire determinate cose e registrare un video da portarvi alla mattina. Quindi quando voi vedrete questo video probabilmente starò dormendo da pochissimi minuti a quanto pare, dato che si faranno le ore piccole e quindi ho spostato semplicemente il momento in cui andrò a lavorare oggi, ma credo che sarà comunque una giornata impegnativa e probabilmente ci vedremo anche nel pomeriggio per un altro video su YouTube perché veramente ci saranno informazioni in aggiornamento. Però dato che è una questione importante, interessante e anche secondo me abbastanza complicata e ovviamente ci sono già tantissime fake news in giro, ci sono tantissime cose che stanno girando, voglio cercare di riportarvi sulla Terra con tutte le informazioni note fino a questo momento. Quindi quando martedì mattina vedrete questo video saremo allineati con tutte le informazioni bene o male che stanno circolando nelle ultimissime ore, che non sono definitive, sono in aggiornamento. E quindi questo è, ieri vi ho portato a caldo, se non a caldissimo la reazione sul campo da calcio perché ero impegnato in altro e vi avevo parlato di una decisione da parte di Andrea Agnelli per quanto riguardava un percorso di crescita sportivo, cosa che con il secondo di poi non è stato proprio perché poi sono venuti fuori nuovi aggiornamenti, lì per lì era uscita soltanto la notizia delle dimissioni del CDA. E ora andiamo a spiegare tutte le motivazioni, tanto come dicevo anche nel post pubblicato su Instagram e su YouTube, io credo che negli ultimi anni Andrea Agnelli abbia sbagliato diverse cose nella gestione della Juventus, ma che rimanga comunque a tutti gli effetti uno dei più grandi presidenti della storia della Juve, o comunque una figura sicuramente positiva per la Juve, senza dover scomodare paragoni ingombranti, dato che fortunatamente la storia della Juve è piena zeppa di triunfi. Però credo proprio che il percorso di Andrea Agnelli con la Juventus sia stato assolutamente positivo e attenzione perché Agnelli esce ma non esce dalla Juventus e vi spiegherò anche il motivo. Prima di tutto però vi ricordo che siamo in piena lotta mondiali e quindi dato che oggi giocherà Polonia contro l'Argentina vi lascio in descrizione alcune informazioni per quanto riguarda statistiche e approfondimenti per quanto riguarda questa partita in particolare, dove appunto l'Argentina di Di Maria e Paredes cerca di staccare un pass mondiale contro la Polonia. Di Scesni e Milic, quindi una partita, un derby bianco-nero anche all'interno del mondiale. Allora, ci sono alcune notizie. Perché? Perché si sposta un po' la parte dirigenziale ma rimane la parte sportiva all'interno della Juventus. Se per parte sportiva cosa intendiamo? Allegri e Cherubini. Attenzione, ieri sera Allegri e Cherubini sono stati avvistati insieme a cena in un ristorante a Torino. Ci sono delle immagini che sono state postate da Sky Sport nei quali si vedevano proprio Allegri entrare all'interno di una 500 bianca che dovrebbe essere la sua macchina dopo una cena insieme a Cherubini senza ovviamente la parte responsabile delle dimissioni. Quindi senza Agnelli, senza Nedved. Si parla soltanto di parte sportiva lato Juventus. Cosa si sono detti in questa cena? In questo momento è ancora abbastanza difficile dire, magari verranno fuori degli aggiornamenti col passare delle ore. Monblano a quanto pare ha detto che addirittura su Allegri potrebbe esserci un discorso legato a delle dimissioni e si aggiunge un po' in questo chiacchiericcio, queste sono notizie non confermate ancora, sono soltanto ricostruzioni, che la Juventus possa chiedere ad Allegri di in realtà tenere duro fino a giugno per poi prendere una decisione definitiva. Quindi prendiamola con le pinze questa cosa legata alle dimissioni di Allegri e questa volontà della Juventus, ma quel che è certo è che Allegri e Cherubini ieri sera erano a pranzo insieme per discutere la parte sportiva legata alla Juventus, che potrebbe essere sì calciomercato, ma in questo momento viene da dire che si vada in tutt'altra direzione. E quindi attenzione, perché come vi dicevo ieri sera, secondo me un allenatore è fortemente, strettamente legato alla fiducia che viene riposta da parte della dirigenza. Dirigenza che si è dimessa per un discorso difensivo, perché adesso entreremo in un percorso legale, giuridico, di bilancio, nel quale non sono esperto e quindi cerco semplicemente di dirvi le cose il più naturale possibile, terra a terra, per fare in modo che tutti possiate comprendere, perché io stesso ho avuto un po' di difficoltà e da quanto ho capito invece Romeo Agresti diceva di stare tranquilli perché al momento si sta parlando di nulla condito col niente perché è ancora troppo presto per tirare delle somme, delle sentenze definitive, ma ovviamente siamo in Italia quindi le sentenze definitive sono già state la Juventus torna in Serie B e tutte queste cose qui. Andiamo con calma, andiamo con molta calma. Intanto ci sarà il CDA il 27 di dicembre, ok, definitivo per la Juventus e questa decisione da parte di Andrea Agnelli, presa davvero da Andrea Agnelli, non dall'alto, no, è stata una sua scelta e ha invitato tutti a dimettersi e tra l'altro c'è una lettera scritta da Andrea Agnelli che ho letto sul numero 10, se volete andarvela a leggere vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricarvi gratuitamente l'applicazione, per poi andarvela a leggere, l'ho postata anche su Instagram e ieri sera veramente avete fatto il botto di swipe e di visualizzazioni al video per cercare di capire un attimo che cosa stava accadendo alla Juventus quello era un video molto a caldo, questo è un video a freddo ragionato, sono due cose diverse ma di questo vi ringrazio anche per tutti i commenti, mi piace, lasciate l'altro video e credo che anche questa ora ha lo stesso destino non si parla più dei mondiali, si parla di un vero e proprio caos legato alla Juventus e qualcuno mi ha detto, stai guardando in una direzione sbagliata perché su Instagram avevo scritto che comunque sono curioso di vedere come sarà la nuova Juve ma questo lo confermo, è vero che c'è un'inchiesta legata a queste dimissioni del CDA ma la Juve rimane, ragazzi la Juventus rimane perché tanti stanno facendo il funerale alla Juventus ma la Juventus mica è morta, ok? Quindi rimaniamo con i piedi per terra inchiesta Prisma, sappiamo tutti di che cosa si tratta, poi andremo un po' più nel dettaglio è stato nominato direttore generale nuovo DG Maurizio Scanavino che io non conoscevo assolutamente uomo di fiducia Elkan, attuale direttore generale di Gedi che è un gruppo editoriale e anche qua non lo conoscevo molto ignorante Luca Toselli però poi con il senno di poi riesce un attimino a mettere insieme alcuni tassellini perché vi dicevo che Agnelli esce dalla Juve ma rimane dalla Juve? Perché la proprietà della Juventus mica era di Andrea Agnelli, o meglio, sì, ma non solo, faceva parte dei proprietari perché? Perché Juventus è di proprietà di Exor, dell'holding Exor, quindi Juventus è di Exor la Juventus rimane in mano alla famiglia Agnelli e quindi Elkan, ok? È da cento anni, il centenario ci sarà proprio quest'anno, 2023, e quindi la Juventus rimane di proprietà degli Agnelli, della famiglia Agnelli ma non c'è più Andrea Agnelli a capo della Juventus con potere decisionale all'interno della Juve attenzione perché ieri si parlava di dimissioni di Agnelli, Nedved e Arriva Bene ma a quanto pare alcune notizie al momento stanno parlando di Arriva Bene che potrebbe rimanere al quale comunque è stato chiesto di rimanere momentaneamente per cercare di portare avanti alcuni lavori anche per una sorta di staffetta con chi verrà, ma attenzione che arriva bene potrebbe comunque rimanere. È intervenuto Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, che ha fatto un'analisi precisa e ordinata ai microfoni di Sky Sport ieri sera. E che cosa ha detto? Vacciago dice la Juve ha fatto questa scelta perché vuole difendersi meglio. Ci sono due filoni in questo momento, uno con la Consob e uno con la Procura di Torino, quindi sempre processo Prisma, inchiesta Prisma e Consob aveva fatto una richiesta di riscrittura del bilancio a Juventus, la Juventus l'ha fatta e in questo momento la ritiene scritta secondo la legge. Che cosa significa? Che cos'è la Consob? Vi leggo la definizione di Wikipedia. Commissione nazionale per le società e la borsa. È un'autorità amministrativa indipendente dotata di autonoma personalità giuridica e piena autonomia operativa. Ok? Quindi per intenderci è un organo che va a pesare tutto quello che accade all'interno della borsa e infatti quando si parlava di plus valenze e di tante squadre interessate ricorderete che si era parlato di Ossimen, si era parlato tante volte del Genoa, si era parlato dell'Inter. Anche queste squadre sono indagate all'interno di questa inchiesta ma la Juventus essendo quotata in borsa ha dei controlli differenti. Quindi che cosa significa? Che secondo la Juventus il bilancio andava bene, Consob ha chiesto qualcos'altro e per non andare muro contro muro si è fatto un passo indietro, si è optato per questa scelta difensiva e la Juve ha deciso così. Tra l'altro non tutti i consiglieri erano d'accordo con questa linea e volevano appunto una posizione più morbida nei confronti della Consob. Questa spaccatura interna alla Juventus quindi indeboliva la Juventus stessa secondo Agnelli e quindi lui e Elkan hanno deciso di azzerare tutto. Elkan scriverà appunto una nuova lista di CDA e verrà creata una Juventus di tecnici, esperti di diritto amministrativo e amministrazione della società. Quindi si lascerà da parte in questo momento la parte sportiva dove ci sarà Cherubini al capo di tutto come è in questo momento e magari davvero Massimiliano Allegri vedremo se verrà confermato, se darà admissioni, se verrà esonerato, al momento non si sa. Quindi per il momento lasciamo da parte questa cosa. La parte sportiva sicuramente ce l'avrà Cherubini. E Andrea Agnelli in questo momento è ufficialmente fuori dalla Juventus e rimane fuori dalla Juventus. Rimane proprietario della Juventus ma al di fuori di tutti i meccanismi che vanno sulle decisioni legate alla Juventus. Quindi Agnelli non sparisce dalla Juve, era dirigente proprietario e in questo momento rimane proprietario proprio per cercare di evitare che possano esserci delle ripercussioni a livello penale magari per queste persone che rappresentava la Juventus e comunque per non creare una divisione, una spaccatura all'interno della Juve e quindi cercare di andare tutti nella stessa direzione. Un po' come ha spiegato lo stesso Andrea Agnelli all'interno della lettera che vi ricordo, potete leggere sul numero 10. Che cosa succede? Cos'è l'inchiesta Prisma? Un breve riepilogo velocissimo, si parla delle plusvalenze 2018-2019-2020, quindi della messa a bilancio di alcuni giocatori con un valore differente, anche se ripadisco le plusvalenze, questo è un discorso un po' particolare della parte legata agli stipendi del Covid, ricorderete tutti che era stato chiesto alla squadra di tagliarsi degli stipendi, poi a un certo punto probabilmente non era stato messo all'interno del bilancio correttamente, io ripeto alzo le mani perché di queste cose sono assolutamente ignorante e anche una parte relativa a delle commissioni degli agenti sulle trattative di calcio a mercato. Poi è intervenuto Federico Ferri a Sky Sport e ha detto ok, inserimento in società di Scanavino, non ci sono punti di contatto con il 2006 per quanto riguarda la giustizia ordinaria sportiva, quindi si va nella direzione di Romeo Agresti, vediamo se ci saranno degli aggiornamenti, e nel 2010 invece ci fu un turnaround all'interno della società per risultati sportivi, cosa che in questo momento non c'è, quindi Andragnelli non è che lascia la Juventus per i risultati sportivi, la lascia appunto per questo discorso legato alle inchieste, a questa battaglia che la Juventus dovrà cercare di affrontare all'interno dei tribunali, all'interno degli organi di competenza che potrà durare addirittura anni e quindi per un po' probabilmente non vedremo la faccia di Andragnelli a livello dirigenziale nella Juventus. Si era partiti quindi con un muro contro muro alla Consob e invece ora si sta arrivando a una situazione differente, ma come dice Federico Ferri, giustamente, in questo momento non è un'ammissione di colpa, non è che Agnelli, Nedved arriva bene, hanno presentato le emissioni perché si ritengono colpevoli e quindi no, non è questo. Si prende atto delle accuse e si cambia rotta per cercare di far riuscire la Juventus nella maniera migliore da questa situazione, perché la Juventus è consapevole di aver agito nel rispetto delle leggi e delle normative. Se ci sono questi organi che in questo momento non sono della stessa opinione e se internamente alla Juventus ci sono delle spaccature su come gestire questa situazione, si fa un passo indietro a livello personale per fare un passo avanti per il bene della Juve e quindi si prende una direzione diversa e quindi la parte sportiva, per il momento Allegri-Cherubini, un occhio di riguardo nei confronti di Allegri, vedremo che cosa cambierà, ma la Juventus sarà piena zeppa di nuove figure che dovranno cercare di lottare dal punto di vista dei bilanci, dal punto di vista del sistemare i conti. Ma non perché la Juve è povera, non perché la Juve ha fatto del rosso, io ho letto tante di queste cose qui, non corrispondono a verità in questo momento, non sono quelle le motivazioni che hanno spinto Agnelli a dimettersi, che hanno spinto Nedved a dimettersi, sono altre cose che penso di avervi spiegato nel migliore dei modi. Sono fatti giudiziari potenzialmente gravi ma che la Juventus ritiene di affrontare più totale tranquillità e quindi ha deciso di fare un passo indietro da queste persone e un passo avanti verso il futuro della Juventus. Questa è una mossa della Juventus difensiva. È ovvio che da questa cosa qui però poi passa anche tutta la gestione sportiva, perché è vero come è vero che sì, la parte sportiva rimane a Cherubini. È vero come è vero che sì, la Juventus rimane agli Agnelli e quindi agli Elkan. È vero come è vero che sì, quindi Agnelli rimane proprietario della Juventus. Però poi il potere decisionale non sarà più racchiuso all'interno della figura del presidente, ma si passerà nelle mani di qualcun altro. E quindi ribadisco, sì, la Juventus in questo momento cerca di difendersi in altre sedi, non in quella sportiva. Ok? Però per forza di cose poi questo avrà delle ripercussioni anche dal punto di vista sportivo, perché verranno fatte delle scelte differenti, verranno utilizzate delle strategie differenti in chiave di mercato, in chiave di scelta cessione giocatori, in chiave di conferma o scelta di un nuovo allenatore. Quindi per forza di cose poi queste cose vanno a toccare anche il lato sportivo. Io mi sento sempre un po' a disagio nel fare questi video in cui vado a spiegare cose che fino a un'ora fa nemmeno io conoscevo, però poi con un po' di raccolta di informazioni sono riuscito a fare questo quadro. Spero anzi di essere stato abbastanza chiaro nell'esporre tutto quello che è accaduto alla Juventus. Però ribadisco, da queste cose qui poi passa anche il futuro lato campo. Quindi per il momento che non gioca la Juventus possiamo parlare di queste cose che sono molto molto importanti e anzi a me piace in realtà scavare all'interno di questi discorsi e farmi una piccola cultura. Mi piace apprendere sempre qualcosina di più e quindi vi dico appuntamento a oggi perché sono convinto che ci vedremo ancora nei prossimi minuti, nelle prossime ore, proprio perché accadrà un po' di tutto. Ragazzi un abbraccio, linkate magari questo video a chi ancora non ha capito cosa sta succedendo e se c'è qualcuno che sta continuando a dire la Juve va in respirone, linkate di questo link, se lo vuole vedere bene, se vuole rimanere nelle sue convinzioni ce ne faremo una ragione.